Via Abilità Metropolitana Si procederà alla costruzione di una nuova corsia di marcia provvisoria spostata verso il campo adiacente per consentire di eseguire il consolidamento della frana. Ecco le modifiche alla mobilità previste nel periodo dei lavori. Chi è diretto a Firenze dovrà percorrere la SP69 via Imprunetana per Tavarnuzze con deviazione a Impruneta all'intersezione delle due provinciali. La direzione Impruneta della SP70 sarà percorribile con deviazione su via di Lischeto. Su tutta la SP70 sarà vietato il transito ai mezzi con peso superiore alle 3 tonnellate e mezzo, esclusi gli autorizzati. Anche i veicoli provenienti da via San Lorenzo a Colline all'intersezione con via di Lischeto avranno l'obbligo di svoltare a sinistra, con unica direzione consentita verso Impruneta. Relativamente al trasporto pubblico locale, i mezzi di linea CAP avranno percorrenza soltanto verso Impruneta, ma sarà istituito un servizio navetta che manterrà comunque il servizio e consentirà di raggiungere Firenze passando per Impruneta.